B, 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 Biblioteca B di bassa danza Bisboccia In verità io a Barbara devo molto Perché io, Barbara, l'ho conosciuta ad Urbino Adesso stavo cercando di ricostruire in che anno Ma è sicuramente il primo anno in cui è venuta lei Sarà stato il 74 o il 75 Quindi io avevo 12 o 13 anni E stavamo insieme in classe E confesso che io me ne ero un po' innamorato di Barbara La guardavo con grandissima ammirazione E penso che lei si sia accorta di questa grande ammirazione che avevo per lei Chiamiamola così E quindi già mi aveva preso abbastanza in simpatia Un altro episodio che posso raccontare è che penso avevo 18 anni Mi sono iscritto al corso di danza per rimorchiare una bella bionda olandese Che poi è diventata la mamma dei miei figli E quindi mi sono iscritto al corso di danza quando era risaputo che ero assolutamente negato per la danza E Barbara in mezzo a questo gruppo con una trentina di iscritti al corso di danza Naturalmente quello per dilettanti Ogni tanto mi urlava addosso No! Alfredo! Ma cosa fai? E io stavo là e questa biondina olandese se la ridacchiava E dopo tutti ne ridevamo Questa era una cosa che mi ha sempre colpito di Barbara Che lei era molto rigorosa, molto severa Ma in una maniera estremamente dolce e ironica E quindi tutti ridevamo un pochino della severità Anche se lo prendevamo molto sul serio Perché era un insegnante eccellente Come dimostrate voi che siete l'intermedi Saltarello Saltarello Simpo Splendore Grupolosa Santucci Serious in her feel Sperimentazione Solerte Savoir faire Sederità Stati Uniti Sparkling Spettacolarità Sparkling, yes Spettacolarità And I have to say I've always had a very strong association with her last name Which to me, again, with an English association makes me think of spark, like light and flame Because it's, it is spartia, not spark, but there's that S-P-A-R in English suggests that kind of combustion And I always thought of her as this kind of Elfin character with this energy, this kind of explosive energy, but in a very good sense explosive, not, not in any way destructive, but, but just little sparks appearing everywhere S-Sensazione, again, or the kind of explosive of the S-P in English, the S-P-A-S-P-A-S-P-A-S-P-A-S-P-A, and then art, art, arte paradoxo piccola era piccolo pazienza pensare parlare contremoli principale formativa postura parodia precisa presenza antonima passionate allora un giorno io fai un solo con un americano che è teoclassa all'egglise americano e io e poi arriva una piccola dame tutta mignone che mi felicità grandemente e e io gli dico e al momento io gli dico ma e voi che cosa faccio? e ben io faccio della danza italiana ah bo? ma allora voi conosciate Andrea Francalanchi? c'è mio disciple e dopo questo tempo lei mi ha chiamato e abbiamo chiamato e non abbiamo quittato la relazione e al momento ho potuto lui dire ma perché non venire in stage? sarebbe abbastanza a pari e quindi Quindi, durante 15 anni, come ho avuto dei studios disponibili, io mi arrangiai per avere 3-4 giorni, sì, c'erano 4 giorni, a ore précise, e quindi venivano ogni anno. E quindi, possiamo interagire, e quindi, ovviamente, al principio, niente di tutto, perché non ne conoscemmo la danza italiana, io seguia come tutti, eccetera. E, in ultima, come ho lavorato su Instructions per Danse e le Danse, che è verso 1610, è stato veramente interessante, e quindi, su François Deleuze, e le due traità, quando si sono aiuto, si sono fatto un po' pierre di Rosetta, e ho parlato con loro su Santucci, L'alfabeto L'alfabeto Ah come amore Altruismo Amica Allievo Le mani d'amore Allegria Angle America Always Available Adorabile Arbo L'Ombrage Ricordi Rivoluzione Rinascimento Ripresa Ricacciata Ripetizione Romantica Roma Rhythmic Responsabile Rigore Risoluto Rispetto R R R Rostiboli Gioioso Corsi Ragguardevole Ragguardevole E ha sempre affrontato anche argomenti che poi ha realizzato nella pratica, a partire da quello che fu una sorta di incubo per noi nella notte dei tempi, e cioè il suo voler riproporre la festa del paradiso proprio ad Urbino. Con esigenze di vario tipo, ve lo potete immaginare, cioè che potete potevamo fare noi con le modeste risorse della FIMA, della Fondazione Italiana per la Musica Antica, a fronte di una delle realizzazioni leonardesche più impegnative, più dispendiose che possiamo immaginare. Però la capabilità di Barbara era superiore, diciamo, a qualunque difficoltà e poi lei non puntava certo allo sfarzo esterico. Ma l'idea di riproporre delle danze che fossero credibili, che fossero adeguate a quella circostanza. Non fu solo quella, ma quella la ricordo in particolare con un certo tremore ancora oggi. Quella me la ricordo in maniera particolare. Come teacher. Tempo. To unno! To unno our bow, yes! Traducción. De nasce. Teacher. Impatient sometimes. Tensione verso degli obiettivi. Testarda. Tournée. Truthful. Trastevere. Tournée. Terrifying in the nicest way. I mean, I've got one favorite anecdote that I love to tell, and maybe you already know it. I used it at the symposium. And that was at a course in Urbino, she taught Cinquecento, and at a certain moment she showed us the steps cambiata. And, well, I had a different idea of that, and at the end of the class I came to her and said, well, Barbara, I have another solution. What do you think of that? And she looked at it and said, no, no, absolutely not. Well, I didn't know the text by heart. So I went home, took my carosso, and read the text, and, well, I had to admit, Barbara was probably right. And so the next day I went to her and said, well, I've read the text, Barbara, you were right. And she said, no, no, you were right. I've read the text too. And so that was not only funny, but that was her way of taking somebody serious. Even if she didn't agree, she thought over it. She didn't just dismiss it. And, yeah, that was very important. Ironia. Ironia. Ilarità. Image. Ideale. Ideale e infinito. Interesting. Illusione. Inhibitable. Insostituibile. Italia e Barbara andavano proprio bene insieme. L'ha dato tanto all'Italia. La possibilità di cominciare, ecco, una serie, la possibilità di cominciare l'alfabeto, la serie, e forse una parte del suo metodo, ecco, cioè, in realtà, l'importante era mettere ordine in tutto quanto. Io ho riletto recentemente alcuni dei suoi saggi e ho visto che sono una miniera di informazioni, ma sempre molto scrupolose nel mettere le cose in ordine. e quindi A, poi B, poi C, che è una mentalità anglosassone che gli italiani conoscono poco, no? Quando scriviamo articoli, saggi, sono sempre molto retorici, pieni di, con una bella introduzione, con tanti fatti che, per poi magari andare a giustificare una piccola cosa. No, ogni volta era, riprendiamo quello che conosciamo, quindi dalla A, e poi arriviamo alla Z, ma attraverso un percorso. E devo dire che ci sono dei saggi così informativi che, ancora oggi, io direi che sono, possono essere considerati dei piccoli metodi didattici, appunto, dalla A alla Z. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.